Il cinquecentenario delle mura urbane è un'occasione imperdibile per Lucca e quindi stiamo cercando di presentare alla città a breve un programma che prevederà 3, 4, 5 massimo grandi eventi internazionali di cui il primo sicuramente sarà il primo weekend di ottobre del 2013 e prevederà l'apertura delle mura seguendo il fil rouge delle mura che hanno difeso l'identità e la conformazione urbanistica di Lucca ma che si sono spesso aperte per commerci e quant'altro. Quindi le vogliamo aprire del tutto ospitando dentro le mura, sulle mura, fuori dalle mura le città gemelle, le città murate, i gruppi storici, insomma questo evento d'apertura delle porte sarà sicuramente secondo le antiche cerimonie, l'antico cerimoniale. E poi Lucca diventerà un set a cielo aperto, centrato sul cinquecentenario. Per fare questo abbiamo i fondi, in parte che la Fondazione Casa di Risparmio ha messo a disposizione per la ristrutturazione delle mura urbane e anche la regione toscana. Una piccola parte dei 9 milioni e mezzo 10 destinati alla ristrutturazione dei paramenti delle mura, della casa del boia, dell'ex canile e della pista ciclabile che deve essere fatta saranno stornati una piccola parte per tutti questi eventi che dureranno un anno.